e poi arriviamo in via annafranca dopo il random party chiaramente birraiosa e ci troviamo questa situazione in una curva pericolosissima guardate che roba una zona proprio trafficatissima d'estate guardate che condizioni guardate hanno transennato perché c'è anche le condizioni in pratica la gente rischia la vita in curva perché non sistema nel tombino poi avete sentito il tedesco che è passato che ha detto bella italia queste condizioni e con questo da jesolo ricordandovi che la sicurezza fa parte anche la messa in sicurezza delle strade e questo è tutto da jesolo claudio vianello punto it è la prossima via annafranca 5 agosto 2018 guardiamo un'altra volta è che ci voglia tanto sistemare ecco qua